Wow, migliori di giorno in giorno anche tu! Un anno fa neanche ci avresti provato, Bart! Vabbè, non era poi così complicato. Vabbè, non era così complicato per te che stai entrando nell'Olimpo dell'automobilismo! Adesso non esagerare. Perché non me l'hai detto subito? Io volevo dirtelo, ma sono stato preso in contropiede, poi era troppo tardi. Avevi paura che ci rimanessi male, vero? Io sarei stata felice per te, anzi io sono felice per te. Come potrei non esserlo? Dopo tutto quello che abbiamo passato insieme, lo so. Sì. Ok, ok, ora sarà meglio avvisare gli altri della tua impresa! Sì. 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 Sì.